Il piede è colpito con elevata frequenza dalle problematiche reumatiche. Questo determina importanti limitazioni funzionali per i pazienti. L'approccio diagnostico al predo reumatico risulta complesso anche per un gap di comunicazione tra il mondo dei fisiatri e quello dei reumatologi. Proprio per colmare questo gap nasce il progetto Non Solo Farmaco, con un gruppo di specialisti coordinati da Giovanni Arioli. Gli obiettivi sono favorire l'approccio multidisciplinare e sensibilizzare sul ruolo delle ortesi. Per migliorare la qualità del cammino nel paziente reumatico, il nome Non Solo Farmaco riassume il concetto della multidisciplinarità. Spesso il dolore del piede ha origini meccaniche o biomeccaniche che una riabilitazione corretta, una scarpa automodellante che alloggi le deformità o talvolta un approccio chirurgico possono risolvere. Per la prima volta abbiamo riunito un board scientifico con alta specializzazione e trasversalità. Il lavoro Non Solo Farmaco verrà riassunto in una flocciata semplice di aiuto per la pratica quotidiana che correla gli handicap al cammino, all'evoluzione della malattia, al trattamento riabilitativo ed ortesico, come quello del trialcio sul piede diabetico. A seguire un libretto per i pazienti e un manuale operativo di riferimento. Nel prossimo congresso Sinfer di Bari verrà presentato il progetto Non Solo Farmaco, mediante un simposio con la presentazione di una prima traccia del triage focalizzato sull'artrite reumatoide. Giovanni Arrioli si occuperà dell'inquadramento clinico-reumatologico, Ernesto Andreoli dei fattori di rischio e dell'approccio riabilitativo. Io illustrerò la valutazione biomeccanica e l'impiego delle ortesi in alcuni casi clinici, mentre Donato Vittore presenterà le diverse opzioni chirurgiche.